Ma buon salve a tutti! Siccome si sta avvicinando il Natale, ho deciso, ma perché non andiamo a reagire a un po' di fail natalizi e preparatevi che ho trovato una compilation entusiasmante? Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bellissimo like, di iscrivervi al canale qualora non l'aveste fatto e di seguirmi su tutti i social. E sì, ho questa voce un po' nasale, quindi scusatemi se sentirete questa voce un po' da raffreddato, ma è il periodo. Detto ciò, direi di iniziare con questo fail natalizio. Ok, una PS4 Porco 2 il gatto Ho paura per questo albero di Natale spelacchio Ma che cazzo... Ah, questo meme di Gesù Cristo è storia! Questo meme è storia, rivisto non so quante volte Gesù Cristo in stazione Ho un bambolatore sul monopattino Che fa una brutta fine Oddio Ok Oh porco, questo è un priaco sicuro Nooo, rip bicchiere! Oddio, un albero che va a fuoco Attenzione Porco 2 Mai accende le luci natalizie Succede questo Ok, i corrieri Beh dai, vedo che i corrieri sono tutti uguali Prendono i pacchi e li sbattono Ora capisco perché ritrovo dei pacchi un po' ammaccati Sì, avevano capito che lo spazio era troppo poco Oddio È un gatto sicuro Gatti, testa di cazzo Che rompono tutto Oddio l'overboard Mi son fatto male pure io L'ho testato pure io Oddio Oddio signora Sì, ma Come cazzo l'hanno messo quella roba? No, non distrugge anche Come cazzo è caduto? Eccala Ma perché stavo sento mambo natale come Pungiball? Oddio proprio il Natale questa bambina Non ha avuto il suo regalo Eccala L'immaginavo una cosa del genere Ok, il bambino che scarta il suo regalo Che non riesce a scartarlo Ma che cos'è? Ho paura Eccala Eccala Ma che cazzo è rimasto chiuso? Ma poi con una parrucca No, che cazzo è il cappello di Natale Ma come cazzo ha fatto? Ma l'hanno chiuso nel cesso Con tanto di catenaccio Oddio Un pacco che rotola Ma perché la lasciano aperto? Ma è proprio un'intelligente C'è chi siamo antipacchi ha perso No, mai fare foto con animali Succede questo Oddio Ho paura per lui Per quella scala Lo sapevo Porco due Nooo Povero schiaccianoci Ma no Ha scritto Satana Nooo Non è un albero di Natale Sembra un pisello Ma che cazzo Un pisello di Natale Ma no Che cosa sta a fare sto cane? Oddio è il Natale questo cane Da quel che ho capito Vedo che non è contento del suo regalo No Non la vedo bene Vedo tutto ingarbugliato quindi Eh mo so cazzi Mamma lo devi dire Il cazzo te l'aiuta Ma che cazzo Oh una PS5 Porco due C'è bambini di quell'età Che dicevano PS5 Vabbè il bambino Ha capito tutto Il pc è meglio Nella PS Ha capito tutto Il bambino Oddio Si stanno rubando le decorazioni Ma che cazzo Ma perché Ma perché Oddio Non usare i droni in casa È la prima regola E finirà male Porca miseria Incastrata nei capelli Ma che stronzo È ubriaca Ma che sta a faa Mi sa che non saranno contentissimi E immagino Oddio Ma è un horror Mi sa che Non è In altezza naturale Qualcosa mi dice Che sarà un flop Ma che Il cringe Ma che cazzo Ah no Non era il cringe Era Santa Claus Nero È una PS È una PS Sì tranquillo Tranquillo È una Playstation Ma sta a 3.000 Questo Porco due Manco se Ti avessero regalato 50 T'hanno trollato T'hanno trollato Porco due Volevi la Playstation E ora te la metti nel culo Che troll pazzesco Ok Ma che cos' Ma che so Con le scarpe De merda Che dei lupanino A forma Le scarpe Ho un iPhone Capadonna Mo c'è il mattone Da dentro Adentro Iphone Don't do Ever do this again Elijah Merry Christmas I love you Always No way Ma Oh my god Ma Merry Christmas Ok Ok Ci è rimasto di merda E' arrivato Babbo Natale E cade Grande Babbo Numero 1 La switch Attenzione Mi sa che è uno scam Ma che stronzi Che vanno Sti scam Ecco Qualcosa mi dice Che l'albero Cade Ecco Poi va addosso al cane Poi poraccio No C'è il ghiaccio Signor Eh lo sapevo Io Ti ho detto C'è il ghiaccio Eh si Pavo scemo Eh Ti si è rotto il culo Aia No 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 Vai vai Proviamo questa playstation Se non te lo sbaciucchiare troppo Sicuro è uno scam Ta ta Che stronzi però dai Che stronzi Oddio Altro albero di Natale Che va a fuoco O potrebbe essere L'aura Dell'albero di Natale Mi sa che è troppo grande Babbo Natale Per quella casetta Ma che cazzo Eh signora Non va a fare cose Con Babbo Natale Bello Cartigenica Per Natale Probabile non ti pulisci Il culo abbastanza Wow Wow L'unica cosa che mi ha fatto un po' Triggerare e divertire Allo stesso tempo Sono stati i regali troll I regali scam Ma dico io Porca miseria Siete proprio Stronzi dentro Per fare un regalo del genere Cioè mi ha fatto ridere Per il fatto che Ci sta come gag Come scherzo di Natale Però Prima la playstation E poi la switch E poi l'iphone E porco due E dico io Poveri sti bambini Traumatizzati Bambini anche Alcuni ragazzi E questo è Natale Chissà cosa accadrà quest'anno Quanti fail Quanti troll Quanti regali scammati Se avete delle clip del genere O vi capitano delle scene del genere A Natale Mandatemi tutto Nei social Detto ciò Io direi che per questo video È tutto Spero che vi sia piaciuto Ovviamente lasciate un bellissimo like Iscrivetevi al canale Qualora l'aveste fatto Seguitemi Su tutti i social Vi lascio il tag Importantissimo E detto ciò Non ci si becca Ad un prossimo Video